In questa realtà a tinte fosche, dominata così tanto dalle macchine e la tecnologia, quella che Fabio Andina descrive nella Pozza del Felice. La Pozza del Felice è un romanzo, direi per certi versi, iniziatico, dove il giovane narratore coprotagonista vive, decide, insomma, chiede a un anziano del luogo, appunto, al Felice, di poter trascorrere con lui questo luogo spettuto in un paesino di 60 anni, di 50-60 anni, di poter essere curiosito, insomma, dal suo modo di vivere molto frugale, insomma, con dei riti, dei rituali quotidiani, di poterli stare a fianco per qualche giorno e capire come trascorrere sul giornale. Dico che è un romanzo iniziatico perché Felice rappresenta un po' quello che per certi versi, insomma, può rappresentare un po' questi grandi figure iniziatici della letteratura, come possono essere i vecchi saggi, come può essere Siddharta, come può essere un Don Juan di Castaneda. Qui però, proprio con riferimento a quest'ultimo, ecco, non sono i funghi allucenogeni ad aprile, altri mondi ad aprile, la realtà non magari la tisana fatta con del rosmarino appena raccolto nell'occhio, spezzettato, le altre erbe aromatiche che il Felice racconta. E il Felice, insomma, è questa figura, quest'uomo novantenne che anche con tutte le stagioni dell'anno, insomma, anche con il freddo infernale, insomma, ogni mattina scalzo con braghette corte o una camicia di panella sbottonale, insomma, fa un suo percorso, fa un suo percorso nei boschi, seguendo appunto un sentiero che un po' per tutti quanti gli abitanti del luogo non si sa se è verità o leggenda, perché si dice che vada a compiere, a fare un bagno in una bozza gelida, anche appunto nei medio di più, più freddi dove occorrerebbe spezzare il ghiaccio della bozza per entrare in merzi e fare il bagno. E allora ecco che il narratore segue questo Felice. E può sembrare, è stato detto, è stato notato anche dalla critica, perché ha avuto dei giudizi molto lusindieri, ed è stata molta attenzione, soprattutto anche nel mercato tedesco dopo la traduzione, appunto in lingua tedesca, è stato detto che questo è un romanzo dove non accade nulla, dove sempre non accada nulla, perché in fondo non c'è una trama tradizionale, non c'è uno svolgersi, insomma non ci sono gli elementi abituali, canonici della narrazione, ma dove invece accade l'altro, dove ci si emoziona, perché piano piano ci si mette in sintonia con il tempo, lo scorrere lento del tempo che vive il Felice e si comincia ad avere un altro sguardo e un altro dito nei confronti delle cose che vivono in questo ambiente, che sono sia le cose, ovviamente la natura, quindi i rumori del bosco, i palestrucci che partono, si raccolgono sui fili per migrare, sia anche le cose inanimate, gli oggetti, i pochi oggetti, ad esempio dell'interno della casa del Felice, le due posate, una sedia, la sarina, che inizialmente appunto il giovane accompagnatore del Felice, quando il Felice dice, insomma va alla sarina, non capisce cosa, insomma pensa sia una persona, sia qualcosa di animato, quando poi invece è la sua cucina, è la cucina economica, che praticamente è l'oggetto di principale arredo quasi della casa. e il Felice, ecco, compie dei gesti che sono quasi dei gesti sacchi, quello che lui compie e ci riporta in una dimensione che ha uno scorrere totalmente, totalmente diverso. Ecco, io inizio da qui e vorrei che il mio fosse più un dialogo con Fabio, che non, insomma, limitarmi, insomma, fare un'analisi ad un'introduzione, per poi arrivare a quello che abbiamo visto nel servizio, e cioè di come la narrazione di un luogo, di un luogo comunque esistente e reale, prima del tutto, insomma, anonimo, quasi per nulla meta di turismo, comunque di visite, poi grazie anche alla letteratura e alla narrazione diventa qualcos'altro che diventa addirittura una ricerca, che è una ricerca sì del luogo di seguire, insomma, questi percorsi raccontati nel romanzo, ma perché attraverso questi luoghi e questi riti si entra un po' nella dimensione che è quella del protagonista del romanzo stesso. E quindi io lascerei adesso la parola a Fabio per raccontarci un po' la genesi, insomma, è quello che pensa lui di questa sua opera, e così poi si inizia a tenere un dialogo un po' con lui. Ecco, grazie. Buonasera e soprattutto grazie dell'invito, mi ha fatto piacere, molto piacere, ieri mattina salire su un aereo a Bergamo per guardare giù qui da voi. E che dire, il romanzo La produzione è felice è nato per una curiosità, nel paese di Riontica, paese di poche anni, di una sessantina di anni, paese che non offre tanto, quindi paese che si sta spopolando, paese vissuto e abitato soprattutto da persone anziane. Io abito in questo paese, e da quando io sono nato i miei genitori hanno comprato una barita in questo paese, da prima era la barita di vacanza, ma adesso è casa mia, e girava la voce da sempre che il felice ogni mattina si alzava presto, l'estate onverno, o pioggia, o vento, o neve, per andare a immergersi in una pozza d'acqua gelida di un torrente su in cima alla pineta, su in cima a montagna. E questa curiosità mia, di sapere, di scoprire se davvero esisteva davvero questa pozza, era tutto là al romanzo. Quindi la domanda che io pongo al felice nel romanzo, se esiste davvero no, questa pozza ha dato la risposta la dò scrivendo, perché io a lui non ho mai fatto questa domanda diretta, io non ho mai voluto chiedere a lui se è vero che ogni mattina ti svegli per andare a fare il bagno in questa pozza, e non glielo mai ho voluto chiedere per un motivo semplicissimo, perché se una persona all'alba dei 90 anni si sveglia alle 5 di mattina di novembre, fuori fa freddo, zero gradi, nevica, e cammina un'ora per andare a immergersi in una pozza d'acqua gelida al buio, sicuramente non lo fa per lavarsi. e secondo me lo faceva, lui lo faceva come un atto spirituale, quindi se questo atto spirituale voleva essere, io non volevo entrare nella sua parte, era qualcosa che doveva rimanere suo o personale, allora l'ho immaginato, l'ho scritto e romanzando ho voluto raccontare quello che era questa sua routine quotidiana dell'andare in pozza per bagnarsi e la risposta che io mi sono dato alla domanda, ma perché lo faceva? perché alla fin fine io ho realizzato che sì, davvero andava a fare il bagno, ma perché lo faceva? secondo me, lui lo faceva per rimanere in contatto con qualcosa di mistico, di spirituale, e la risposta che io mi sono dato è questa, ed è venuta dopo aver scritto il romanzo, la mia risposta, è interessante come piano piano durante le presentazioni, parlando alla gente e analizzando il romanzo, analizzando quello che la gente pensa del romanzo, io sono uscito con questa conclusione, allora, la mia conclusione è questa, l'acqua esiste su questo pianeta Terra da milioni di anni, è sempre la stessa acqua, l'acqua si modifica, passa dal stato liquido, assolito, gassoso, e cimila nel mondo, è sempre la stessa acqua, quindi io sono sicuro che questa acqua che sto vivendo è un'acqua che forse centomila anni fa era in un laghetto della Patagonia, è probabilissimo, è molto probabile questo, quindi io mi dico questo, se lui entrava nella pozza e toccava quell'acqua, lui non qualche modo voleva rimanere in contatto con qualcuno, magari con i suoi genitori decennuti, perché noi siamo fatti per l'80%, il nostro corpo è fatto per l'80% d'acqua, quando noi riceviamo l'80% di quest'acqua evapora, torna in circolo, quindi l'acqua, nel mio immaginario, l'acqua collega tutti noi, se io tocco quest'acqua posso credere che tocco i miei antenati, e allora io non voglio credere che il felice faceva il bagno in questa pozza per rimanere in contatto con qualcuno, e da quando il felice è deceduto, e io ho scoperto dove la pozza, ora vado io a fare il bagno nella pozza per rimanere in contatto con lui. Io quando faccio questo discorso alla gente, la induco a pensare che questa cosa è vera e c'è gente che mi ha raccontato di essere andato in pozza, essersi spogliati, immersi, e di aver pianto, e di aver pianto perché hanno pensato al papà appena deceduto, a un amico appena deceduto, eccetera. Quindi la pozza che era centrale nel romanzo è centrale nella copertina, perché la copertina rappresenta l'acqua, centrale nel titolo perché è la pozza del felice, la pozza d'acqua. Ora la pozza è diventata centrale anche come luogo di un luogo di pellegrinaggio, di un turismo che sta nascendo in valle, dei lettori sulle tracce del felice. Iniziavano già dopo la pubblicazione del romanzo in italiano, venivano alle ontica persone e iniziavano a chiedere dov'è la casa del felice, dov'è la pozza, dov'è la chiesetta, dov'è questo, dov'è quello. Venivano a bussare anche a casa mia perché gli veniva detto dove abitava l'antino Fabio e venivano a bussare. E ora con la realizzazione del sentiero con i pannelli didattici, i lettori turisti che vengono alle ontica possono seguire le indicazioni e raggiungere la casa del felice, possono raggiungere la pozza e questo è dato un movimento abbastanza grande al paesino e alla valle in generale. Si stima che più o meno cento persone al giorno al mese vadano alla pozza e che è qualcosa di notevole se pensiamo che prima questa pozza era sconosciuta al più. Quindi per legarci a quello che dicevamo prima da un romanzo e dall'intuizione di alcune persone che hanno voluto di avere la pozza. ha creato un po' un'economia che non esisteva insomma in un luogo in un'area interna che rischiava che era insomma avviato l'abbandono e che forse grazie anche a un'opera letteraria insomma si è ribaltata si è ribaltata un po' questa tendenza questo destino. Infatti vedevo anche in un altro servizio ne hanno parlato i telegiornali della TV Svizzera e me l'ha raccontato tu stesso insomma non esisteva più un esercizio commerciale aperto neanche un bar o un ristorante alle ontica mentre pare che adesso insomma si stiano si stiano avviando a riaprire di nuovo di nuovo un bar e si stiano innescando dei sistemi dei meccanismi dei meccanismi virtuosi come ad esempio e qui ti invito anche a raccontarlo insomma è un luogo dove ci sono diverse baide e dove addirittura tu hai scoperto insomma che sono state acquistate proprio delle baide grazie insomma dopo la lettura del romanzo stesso insomma quindi è diventato anche sotto l'aspetto immobiliare insomma un incentivo a a ripopolare a ripopolare questa area questo è vero nella regione sul pendio dove sorge il paesino di Leontica ci sono sparse centinaia di baide abbandonate e la maggior parte di queste baide sono in debita sono rustici da comprare restaurare a riadattare per poi passarci le vacanze perché vengono comprate come case secondarie e un esempio per cui posso portare questo io l'anno scorso nel mese di maggio sono stato invitato a un festival letterario della Svezza tedesca a presentare la Pozza del Felice sabato di dieci giorni fa ero Leontica passa questa signora Fabio ciao mi dice era la direttrice del festival letterario al quale io ero stato invitato che dopo aver letto il libro si è recato in valle col marito ha girato ha visitato ha guardato e hanno comprato rustico l'hanno messo a posto e vengono a passarci le vacanze quindi questo è un esempio lampante che almeno un rustico è stato comprato perché qualcuno ha letto il romanzo si è interessato è venuto a vedere il paese la regione si è inaugurato di nuovo e ha comprato un rustico io sono contento che tu sia venuto a trovarci che abbiamo potuto conoscerci così da vicino nella nostra realtà nei giorni scorsi abbiamo fatto una visita anche nella tipografia visto quant'altra gente al lavoro abbiamo scoperto l'ho visto anche su una pedana c'erano coppie e detto lì insomma in il ristante quindi sono felice anche di di questo scampio che si è creato insomma che tu ti sia così un po' avvicinato alla nostra alla nostra realtà è un modo per per conoscersi e per trasmettersi insomma delle appunto delle delle conoscenze e delle sensazioni e chissà che magari questo qui non ispiri anche te insomma come un po' insomma la residenza di artisti che si ispirano un po' alla creazione di operetarte insomma nel parco che verranno installate nel parco chissà che non ispiri anche a te insomma un'opera letteraria o qualcosa insomma un racconto o altro insomma che poi può concretizzarsi in in narrazione appunto in in future in future tue tue opere sono così noi abbiamo anche un po' così come tu l'hai conosciuto noi credo che si possa essere anche questa un'occasione per conoscere meglio anche te insomma il tuo modus operandi insomma il tuo rete perché tutto questo che stiamo raccontando se il felice ha raggiunto il pubblico se il felice ha raggiunto dei lettori se è stato in grado di emozionarli perché poi quel che conta quel che scatena insomma qualcosa di vivo sono le emozioni insomma se la letteratura trasmette emozioni è vera letteratura ma altrimenti non lo è e perché lo sia insomma serve sicuramente tanta disciplina un impegno ma serve anche tanto tanto talento che evidentemente tu hai io giusto per insomma dire le tue parole su di te e presentarti insomma al nostro pubblico mi piace ricordare insomma che tu hai fatto un'esperienza anche in insomma di viaggi in America dove hai frequentato ti sei diplomato insomma in una scuola di cinema di sceneggiatura insomma con un diploma in cinema e in queste due frequentazioni in queste due insomma stare e vivere per un periodo in America ha anche frequentato scrittori artisti tra questi il poeta Ferlinghetti uno insomma dei massimi esponenti della Beat Generation il quale ha letto anche delle tue cose ti ha consigliato a cui siete confrontati e dal quale anche a tuo modo hai assorbito degli stileni e dei modi creativi che erano proprio della Beat Generation cioè quelli del flusso di coscienza dello scrivere di getto ecco quanto ti è servito e quanto lo ritrovi in quello che oggi fai insomma nei racconti perché poi parleremo anche dell'altro tuo libro insomma da dove è chiaro che comunque ci sono hai attinto sicuramente a questi grandi esempi letterari e artistici Lawrence Ferlinghetti io quando sono arrivato per la prima volta negli Stati Uniti ero a San Diego a San Diego ho frequentato il college al college un professore di psicologia della letteratura mi ha fatto memorare della Beat Generation quindi ho iniziato a leggere che ero atto con Ferlinghetti Ginzberg William Barrox che ero il corso dagli anni di prima e assiduamente ho iniziato a tuffarmi dentro in questa filosofia della Beat Generation mi affascinava il tutto il loro modo di vivere la vita io avevo 22 anni quindi a vedere come modelli di questi grandi mostri sacri della letteratura mi ispiravano poi quando mi sono trasferito a San Francisco per continuare gli studi di cinema alla San Francisco State University il primo giorno che sono arrivato a San Francisco non potevo ancora entrare nel campus universitario dovevo aspettare tre settimane cosa ho fatto? sono andato alla City Light Book Store fondata da Ferlinghetti io ho cercato l'ostello più vicino l'ostello più vicino era più o meno di 100 metri nella Sinatown di San Francisco mi ci sono installato per tre settimane e tutti i giorni passavo al City Light Book Store e al Vessuto di un caffè con la speranza di incontrare Ferlinghetti quando l'ho incontrato gli sono saltato all'osso sono andato alla Ferlinghetti gli ho detto sono italiano come te scrivo scrivo poesie devi leggere le mie poesie mi ha mi ha accolto nel suo ufficio il giorno che io sono entrato nel suo ufficio è stata una rivolta per la rivoluzione cioè con l'ufficio c'erano passati tutti gli scrittori c'erano passati tanti musicisti che io seguivo che io seguo tuttora dai musicisti negati alla V-Generation come Jim Morrison Charlie Parker Mouse Davis oppure anche Jim Morrison eccetera io ero in quell'ufficio tremavo mentre lui mi ridava datti lo scritto con le poesie che aveva detto e queste erano state le sue parole le tue poesie mi piacciono ma sono troppo cupe però continuo a scrivere queste parole a me hanno non dico che hanno cambiato totalmente il mio però sono stato un incentivo grossissimo un personaggio come Ferlinghetti che ti dice continuo a scrivere per me è stato un obbligo io adesso devo continuare a scrivere e da lì io ho sperimentato sempre di più e l'ho fatta mia l'arte dello scrivere a fusto poche parole scrivere a fusto vuol dire lasciare andare i pensieri e riportare quello che il cervello ha detto sperando che il cervello ha detto molto velocemente riportarlo sulla macchina da scrivere o sul computer o a mano e non preoccuparsi come fanno tanti lettori che dopo aver scritto due righe le devono rileggere per già risistemare no io funziono che scrivo magari anche venti pagine al giorno non le rileggo il giorno dopo ne scrivo altrimenti non le rileggo quando ho cento pagine di una bozza di una storia che potrebbe funzionare allora la riprendo e la rileggo questo è anche come è nato come è nato il romanzo La pozza del felice La pozza del felice è nato di getto io in sei o sette giorni ho scritto la bozza di cento di pagine e poi ci sono ritornato e l'ho riscritta e l'ho riletta e riscritta per un anno e mezzo questo è il mio modo di lavorare e tuttora questo è stato prasmesso ecco a un po' da questi stilemi che erano della big generation ma voglio dire tu hai anche una sorta di per cui se la cosa arriva appunto abbiamo detto è per la tua bravura per la cura di per la capacità di osservazione di osservazione delle persone per la situazione dei dettagli anche dei piccoli gesti e delle cose insignificanti e anche come cifra stilistica hai una sorta di minimalismo che è appunto quel lavoro di scato che sicuramente tu farai dopo aver scritto tutte queste pagine oltre che a sistemarle insomma anche ad un lavoro di 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 sottrazione che in qualche modo e qui veniamo e vi allancio anche al secondo libro e allargiamo l'area del territorio di cui ti si è occupato la raccolta di racconti sei tu ticino che in qualche modo almeno a me hanno dato questa questa suggestione hanno richiamato un altro dei grandi scrittori americani venuto dopo insomma figlio un po' di generazione che è un nipotino di quel che è Carver proprio per il suo minimalismo e non solo per quello perché di Carver mi venivano in mente tanti i suoi racconti che poi hanno avuto una depredizione cinematografica con Robert Altman con il film America Oggi che era un ricucire tutti questi racconti che raccontavano un'America profonda non l'America delle grandi metropoli ma l'America delle grandi estensioni l'America dei stati interni dove sembra non accada nulla e invece dove la vita brulica insomma c'è qualcosa che cova sotto questa cenere apparente insomma di pianta di pianta normalità ed è un po' secondo me l'operazione rapportabile ai racconti di Sei Tuticino ed è Sei Tuticino da pronunciare con un punto interrogativo insomma di domanda perché insomma adesso ci spiegherai anche cosa intendi con quel punto di domanda ma è come se tu metessi a Sieve insomma tutte queste piccole micro storie quindi non solo storie di montagna anche se è presente qualche storia di montagna uno dei racconti più belli ma farei torto agli altri perché sono tutti racconti molto belli il biz del teo di questi due amici che insomma fanno un po' decidono di costruire di arrivare in cima a una montagna per mettere una croce e lasciare un segno perché c'è un significato sotto ma ci sono anche c'è la vita di fondo vallo c'è la vita insomma dei gentili più popolosi e sotto questa normalità apparente ci sono storie invece che poi sono delle storie universali e che fanno vedere un'immagine della Svizzera non stereotipata perché poi appunto non ci piace quella letteratura che rovi gli stereotipi e che va a scavare dentro le cose e ci fai a vedere forse un vicino diverso ed è secondo me poi una metafora un po' diversità del libro che è applicabile poi a qualsiasi situazione in ogni luogo insomma fa conosciuto non per gli stereotipi che si sono costruiti su di lui su di esso ma appunto per entrare dentro le storie che poi possono assomigliarci a qualsiasi latitudine è vero che ci ritrovi cosa dici su questo? Sì parco da un commento che ho sentito da uno di voi che oggi mi ha detto è in Ticino tutto bene tutti lavorano tutti hanno una bella paga tutti stanno bene non c'è niente di brutto il titolo il titolo vuole dare una risposta a questo commento che invece no il Ticino che si vede all'estero è tutto bello tutto rosa e fiori è un paradiso ma il vero Ticino come lo vivo io come lo conosco io non è solamente rosa e fiori il Ticino per alcuni può essere il paradiso ma per tanti è anche l'inferno e questo all'estero non si vede perché noi Sivestri siamo capaci siamo furbi a nascondere le cose brutte e far vedere solo le cose belle in questa raccolta di racconti emergono tante di queste cose brutte che noi vogliamo nascondere e chiedere dietro una porta no? e queste cose brutte sono cose universali il bullismo o tre amici che dopo aver sotterrato l'amico dopo il funerale si trovano al bar e iniziano a parlare dell'amico e saltano fuori vicende anche losche o storie di omicidi esistono anche questi esistono anche questi sempre di più quando io ero bambino il Ticino era abbastanza idilliaco adesso non lo è più il Ticino è diventato anche terra di omicidi di storie brutte eccetera e questa romanza vuole parlare di questo ma anche se la tela sulla quale io pitturo è il Ticino i colori chiusi sono universali quindi in queste storie voi potete trovarvi voi calabresi ma anche io penso che anche i tedesi e anche i francesi si possano trovare in queste storie sono storie che toccano tutti per avviarci un po' alla conclusione data allora volevo anche ricordare appunto cosa che abbiamo accettato all'inizio i successi questo romanzo poi speriamo lo sia anche insomma se vuole anche per i racconti per le cose future che abbiamo in cantiere ha ricevuto insomma un apprezzamento un apprezzamento importante soprattutto appunto abbiamo detto l'edizione tedesca e in un certo senso forse perché è un libro anche se è meditato creato ovviamente in tempi non sospetti confrontandomi anche con l'editrice Zulighese insomma dell'edizione tedesca e diceva ah noi siamo stati insomma è stato il libro giusto al momento giusto nel senso che è coinciso con una grande tragedia che ci ha convolti un po' tutti e nel senso di cosa che questa pandemia i nostri lockdown insomma ci hanno un po' accelerato una cosa per la quale sicuramente eravamo portati a pensare hanno accelerato la nostra riflessione hanno accelerato una nostra meditazione su quelli che sono i nostri comportamenti quotidiani le cose che davvero contano le qualità le priorità o per esempio ci è un dato che durante questi periodi di lockdown ci sono stati meno sprechi alimentari perché sicuramente abbiamo avuto più tempo per pensare per soffermarci su determinate cose e abbiamo dato anche valore a determinate risorse capire che non sono finite e che dobbiamo salvaguardare lo stesso e il pianeta e un po' credo che il felice il successo anche del felice c'è stato perché c'è stata questa voglia di mettersi il felice che aiuta in sintonia con quelli che sono i ritmi della natura e l'essenza stessa i valori della natura e l'essenza stessa dell'uomo e uno scorrere lento rispetto alla frenesia alla frenesia del mondo moderno come diceva una famosa reclami e niente questo libro appunto oltre all'audiolibro oltre alla versione digitale l'edizione tedesca l'edizione francese è uscita da pochi giorni non ancora di libreria ma è uscita tipograficamente l'edizione spagnola tassi di tutti i cino ci sono stati i radiodrammi per la tv la radio svizzera insomma è stato sceleggiato un primo racconto e sono stati sceleggiati anche gli altri racconti che andranno in onda da qui a breve e abbiamo anche il cantiere insomma altre cose per una possibile anche riduzione cinematografica non del Felici questa volta ma dei racconti e qui insomma è un percorso che continua che noi ti auguriamo continua e così un'augurio che rivolgiamo a te ma che ovviamente facciamo anche facciamo anche a noi stessi e così se puoi così chiudere tu perché a chiusura poi o se volete intervenire poi dal pubblico insomma prima di di salutarci poi vogliamo concludere mandando un altro piccolo breve filmato che testimoni andrà l'altro di un riconoscimento importante che la Voz del Felice ha ottenuto perché è stato anche vincitore di premi del premio Terra Nova della Fondazione Schiller equiparabile per importanza al nostro premio strega insomma è il premio svizzero di grande importanza e volevo concludere con un filmato che è stato realizzato in occasione di un altro importante premio che è il premio Gambrinos insomma che ti è stato assegnato quindi lascio la parola a te e prima di mandare il filmato lascio la possibilità a chi del pubblico vuole intervenire e fare qualche domanda io vorrei finire dicendo questo dicendo qualcosa che sento tanto dai lettori che mi mi avvicinano dopo le letture che faccio ancora ultimamente nella Svizzera tedesca tre o quattro giorni fa una signora si è avvicinata a me con la coppia italiana la coppia tedesca del romanzo e mi ha detto questo questo libro è la mia libia per far capire cosa che lei legge e cerca di di seguire gli insegnamenti che Felice ci dà senza dirci valore ma mostrando qual è secondo me qual è la strada giusta da prendere soprattutto in questo periodo di frenesia dove tutto va di corsa dove tutti vogliono avere tutto subito il Felice ci fa vedere che si può vivere benissimo con poco ma con un essenziale coltivando soprattutto i pochi veri contatti di amicizia ma stando bene con se stessi quindi quelle parole che mi ha letto questa signora il libro e la mia libia vorrei vorrei vedere se anche voi dopo aver letto questo romanzo potete rilacciarvi a queste parole un augurio che vi faccio io cerco di vivere in questa maniera io cerco di vivere quel poco essenziale con una vita minimalista ma soprattutto se fanno vivere con me stesso è qualcosa che si può fare e adesso forse è giunto il momento adesso in questo periodo frenitico dove la vita sta un po' sfuggendo di male a tutti i anni e questo è il mio augurio che si possa un po' ritornare a vivere come vivevano i nostri vecchi saggi i miei paesi grazie grazie se nessuno volete venire vi chiamo che vi siete oggi il felice era una persona così distaccata da tutto questo perché non veniva influenzata da tutto questo perché lui riusciva a stare bene solo con se stesso quindi non aveva bisogno di sapere cosa succedeva fuori dal suo paese non gli interessava neanche lui era raggiunto un momento della sua vita dove aveva aveva guadagnato quella felicità interiore quindi quando tu stai bene con te stesso tutto il resto viene in secondo piano forse neanche in secondo piano lui stava bene con i suoi rituali giornalieri con i suoi rituali seguendo le stagioni eccetera io tante volte lo definisco vero ve lo immagino come uno di quei buddhisti su un rastero in cima in montagna staccato dal mondo ma felice con se stesso dentro di sé sezione montagna cultura e civiltà panno la lina la forza del felice robertino e vitore lui è davanti a me leggero e a piedi nudi con il freddo che fa vende soltanto delle draghe tagliate fuori da un paio di jeans e una camicia di planella con le maniche corte sbottonate e con un ombrello aperto sopra la testa lo scorso il freddo il freddo il freddo ha compiuto 90 anni in intermondio prello fiato e portamento una maglia a due tra le rocce e le la forza si spoglie la sua pelle il contrasto con il puro tutto attorno pare che risplenda e senza pensarci sulle volte si immagina la forza tutto dentro nudo con il merito proprio come si serviva l'idea in giro prima del mondo e portello gli avvertiva inoroso che il finito il suo movimento possa distogli da quel momento quello è il suo momento è il mio turno affetto i miei lumi a la ramo faccio alcuni passi a piedi nudi a me rialza e mi fermo sul bordo della forza mi inergo nella facenda la mia testa si scuola mi sento bene con una specie di orgoglia addosso chissà se il felice ha mai pensato che la sua acqua va al mare e che quest'acqua bagna anche uno che per bagno nel Puneco o nel mare che lì o avventura nella Moscova in Russia e che allora immergersi nella sua forza è un po' come viaggiare lungo i minuti attraverso i dati i mari i oceani e anche nella pioggia e anche come se vi sentito qualcuno immerso nell'acqua in giro nel mondo la stessa acqua ci metterà un'ora a raggiungere qualcuno che sta facendo il bagno più a valle e più nel reno giorni per il bagno maggiore anni per bagnare qualcuno nella Moscova ma è felice ha pazienza aveva ragione chi diceva che felice aveva partato a fare il bagno nella forza dopo il suo viaggio in Russia ma nessuno si era mai immaginato che lo faceva da rimanere in contatto con loro tramite l'acqua grazie grazie ancora a Fabian Urina grazie Luigi che dobbiamo dire ha condotto magistralmente questo questo dibattito mi ha piaciuto moltissimo volevo giusto dire solo un'ultima cosa questo premio di letteratura di montagna il premio da Morinus ce lo siamo ria giudicati di nuovo con un libro sulla montagna nel calabarese quindi vuol dire che la nostra attività legata anche alla montagna viene apprezzata anche fuori bene di qua c'è un ring così ci lasciamo tutti i sambi finiscono in luoghi e ci lasciamo in maniera così condiviale grazie ancora grazie a tutti